Ciao, io sono Gattri, lei è Silvia Natella, poi c'è Anton, il gesto non c'è, vabbè, non ci perdiamo in utili, ecco, ecco, Maria, ok, dall'altro lato c'è Andrea, che però non si vede dove vende la camera, ma l'intervista avrebbe troppo, e nulla, questa settimana ho girato uno spot pubblicitario per rendere omaggio alla città di San Benedetto, con me ha collaborato Pierluigi Sommella, spero che vi piacerà, uno spot emozionale, so, enjoy! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!